le criticità legate ai tempi della giustizia le opportunità offerte dagli strumenti alternativi messi a disposizione dall'ordinamento e questa la riflessione nella camera di commercio di cosenza che ha presentato lo statuto e il nuovo regolamento della camera arbitrale costantino mortati con l'occasione ha organizzato un evento di divulgazione e approfondimento sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che consentono sottolinea ai nostri microfoni il presidente dell'ente camerale bruzzio claus algeri di risparmiare non solo tempo ma anche danaro prezioso che in realtà abbiamo portato avanti un regolamento nuovo questo permette in realtà di poter lanciare in un modo definitivo questo sistema all'interno della camera di commercio dove si pone un modo di essere un riferimento non solo cosentine per la carabia per il mezzogiorno così come lo è Milano su questo. Noi ci crediamo tanto perché mi ricordo qualche anno fa quanto un grosso gruppo venne a investire a cosenza ho voluto sapere due cose la lentezza nel comune nell'ufficio tecnico a che punto era il tribunale con le sentenze cioè i tempi. Allora chi deve fare grossi investimenti va a vedere la prima cosa è questo cioè i tempi della giustizia. I tempi della giustizia che per le imprese sono denaro quindi ha un costo ma sono anche i tempi che si allungono e quindi ricara ancora un altro costo. Nell'ente camerale è stata istituita la camera arbitrale l'unico organismo presente in Calabria e uno dei pochissimi in tutto il sud Italia grazie al quale è possibile avviare una procedura regolamentata di arbitrato alla presenza di professionisti che vengono formati adeguatamente con la possibilità di ottenere un lodo definitivo assimilabile in tutto e per tutto ad una sentenza di primo grado. Intanto l'arbitrato amministrato qual è sostanzialmente quello presso la camera arbitrale di cosenza abbiamo fatto delle innovazioni nel regolamento cercando di ampliare la competenza. Noi parliamo adesso di Zeda economico speciale unica per il sud e penso che la camera arbitrale di cosenza si candida ad essere il punto di riferimento per il sud Italia in termini di ADR per la risoluzione delle controversie e i rimedi alternativi rispetto al giudizio civile. Ma possiamo pensare ad esempio al nuovo codice degli appalti dove è stato rivalutato e rilanciato l'arbitrato, i collegi tecnici consultivi, lo stesso ricorso straordinario al capo dello Stato se vogliamo è un rimedio alternativo rispetto ai tempi della giustizia e parliamo in materia in questo caso amministrativa. La necessità di una sinergia tra il mondo universitario, il mondo delle professioni e anche il tribunale e la camera di commercio che direi ormai da anni diventa un centro di formazione culturale che inevitabilmente si interessa anche di tematiche di grandissima attualità. Direi che oggi è una giornata importante, l'università chiaramente è aperta a questi percorsi e quindi io come responsabile scientifico non solo per la formazione degli arbitri ma anche per altri corsi, sono assolutamente contento anche di questo incarico che chiaramente comporta profili di responsabilità, profili anche di impegno ma l'università sotto questo aspetto ha diciamo una grandissima capacità anche organizzativa quindi anche le nostre aule, i nostri servizi sono a disposizione dei professionisti. Sul tema della giustizia è impegnato evidentemente anche il governo come sottolinea i nostri microfoni Tommaso Calderone componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Dal 2003 al 2023 possiamo dire che l'arretrato è stato abbattuto per il 50% perché quando si parla con i numeri è difficile obiettare. Il punto massimo di arretrato, mi riferisco ai processi civili, alle cause civili, lo si raggiunge nel 2009 con 5 milioni e 700 mila cause pendenti. Nel 2023 siamo scesi, uso un termine poco elegante, a 2 milioni e mezzo, quindi esattamente la metà, anzi oltre la metà. L'obiettivo del governo, del ministero in questo caso è quello di abbattere completamente l'arretrato. L'obiettivo del ministero e quindi del governo è andare a pieno organico in tutti i tribunali entro il 2026, ovviamente obiettivo ambizioso, però credo assolutamente raggiungibile. Grazie a tutti.